Disegno superiore Paisaggio sconfinato all'orizzonte, diverso da quanto fossi abituato, scenografia della nuova e inimmaginata vita che ti ritrovi ad interpretare in un insieme di situazioni che ti fanno sentire, dopo un po' protagonista, legittimo, di una storia che ha bisogno di essere scritta da azioni convinte. Perché tutto merita di essere vissuto senza freni alcuni, per dimostrare rispetto a chi o a cosa ha scelto per te, forse con una consapevolezza che tu non hai perché non sai dove stai andando. L'unica cosa certa è la fiducia nel tuo mentor ed un sereno abbandono nelle sue scelte che man mano si schieriscono, forse no. Tanto non importa, quel che conta è la carica conseguente che ti dona una profonda sensazione di giustezza e di appartenenza ad una realtà che sembra fare di te uno strumento non pienamente consapevole ma profondamente fiducioso dell'accettazione un disegno superiore di cui ti senti guerriero impavido di una milizia di pace e di amore i cui trofei di guerra donano smussati angoli di perfetta purezza amorosa che mai avresti pensato di apprezzare forse perché non sapevi cosa fosse.